Questa è la V37, è stata la grande novità per il 2018, quindi è già disponibile ovviamente presso tutti i rivenditori. È un'evoluzione del modello nostro storico V35, anche quello di grandissimo successo, quindi dedicato al nostro attacco side, mono key side, quindi PLX è il codice. Questa valigia da 35 litri dell'originale è passata adesso a 37, non è soltanto un'evoluzione in termini di volume, per cui per esempio questa adesso tiene un casco integrale ma anche modulare, quindi può contenere un intero casco. Non è soltanto però un discorso di puro volume, ma è anche stato fatto un attento studio all'ergonomia, soprattutto in condizioni nelle quali magari abbiamo un passeggero, c'è più volume, più disponibilità di spazio per la gamba del passeggero. Il fregio in questo momento c'è in in argento, diciamo verniciato in argento, a breve sarà disponibile una versione tech con questa freccia distintiva, questo fregio sarà però in similcarbonio, questa è la B37.